benvenuti benvenute a questa edizione del freelance camping ce l'abbiamo fatta ora magari qualcuno si stupirà che io parli con la mascherina in realtà facciamo il momento dell'educazione sanitaria parlare ad alta voce è proprio la situazione di massima distribuzione e quindi abbiamo pensato di chiedere agli speaker di parlare con la mascherina per tutelare le persone che sono in prima fila e comunque igienizziamo il microfono ogni volta insomma preparare un freelance camp in questa situazione di coronavirus che ritorna è stato interessante per usare un eufemismo ma ci siamo e siamo molto felici di esserci e perché comunque per quanto il freelance camp edizione online di giugno a cui tantissimi di voi hanno partecipato sia stato molto bello eravamo il doppio di quelli che siamo oggi però vedersi dal vivo è tutta un'altra cosa e siamo anche devo dire molto felici di avere trovato questo spazio questa situazione in cui riusciamo a stare insieme io sono stata molto contenta di essere arrivata ieri e di avere già incontrato tante persone aver avuto il tempo e lo spazio per salutare tante persone già conosciute nelle edizioni precedenti e i nuovi arrivati che ringrazio tantissimo siamo meno che nelle solite edizioni di marina romea siamo più o meno un centinaio l'anno scorso al bocca in questa stagione eravamo a maggio eravamo il doppio ma va bene così direi che questa è una stagione in cui ci incontriamo molto volentieri in numeri più ridotti e perché abbiamo voglia comunque di stare insieme vorrà dire che ne faremo di più di freelance camp noi se ci troviamo bene siamo torneremo qui a maggio quindi l'anno prossimo nei nostri programmi ce ne sono due di freelance camping a marina romea edizione di primavera ed edizione autunnale quindi maggio e settembre dovrebbero diventare gli appuntamenti classici continuiamo a farlo a roma a roma saremo il 23 ottobre venerdì 23 ottobre a cartiera latina al parco dell'api antica in un'edizione ancora più piccola per nella quale crediamo molto perché vogliamo che a roma si consolidi e cresca una comunità di freelance in grado di organizzare e di gestire eventi e nel 2021 ne vogliamo fare anche degli altri io li vedo il drappello triveneto che deve rodare i motori perché noi vogliamo il freelance camp dolomiti io voglio il freelance camp dolomiti e altri ce ne saranno ne parleremo quindi diciamo che questa è per me è veramente una grandissima gioia essere di nuovo qui a vederci di persona a scambiarci delle idee a consolidare dei rapporti delle relazioni a preparare dei progetti insieme e come già abbiamo fatto nell'edizione dell'anno scorso alterneremo i momenti dei talk a momenti di networking corner in gruppi più piccoli in cui lanceremo dei temi che poi approfondiremo chiacchierando di persona in distribuendoci qui intorno negli spazi del campeggio e che cos'altro devo dire quindi parleremo faremo i networking corner ci conosceremo meglio e poi ritorneremo qui a fare i talk che cos'altro devo dire devo ringraziare naturalmente come in ogni talk di benvenuto devo ringraziare i nostri sponsor che ci aiutano anche in quest'anno così particolare e ci supportano nella organizzazione nella realizzazione non solo degli eventi in presenza ma anche di tutto il resto che facciamo durante l'anno perché come voi sapete il freelance camp da quest'anno non è solamente degli eventi in cui ci vediamo ma è anche una membership annuale il freelance camp club in cui ci vediamo online una volta al mese per fare dei workshop in cui continuiamo a imparare cose continuiamo a conoscerci fra noi e abbiamo fatto uno alla fine di luglio sul network sul personal branding canvas ne abbiamo fatto una settimana scorsa con fabiana palu sul staccare e riprendere ne faremo uno a fine settembre con carlotta cabbiati sul fisco a ottobre avremo un gruppo eccezionale di con luisa carrada roberta buzzacchino suggeritemi nomi delle le autrici di una gioco creativo designer in gioco marzia bianchi e cristina lavazza che hanno creato questa cosa meravigliosa una specie di gioco di carte e di ruoli in cui ci si reinventa ci si ridefinisce proiettandosi sulle sui vari mestieri che è una cosa che mi ricorda molto della delle delle discussioni dei ragionamenti e dei talk fatti in questi anni e dicevo devo ringraziare gli sponsor davvero di cuore site ground che ci sostiene da anni copp alleanza 3.0 che con cui domani ci collegheremo in diretta faremo una diretta saluti da copp domani mattina e poi tutti gli altri banca etica che da anni firma e griffa i nostri meravigliosi zainetti baule volante fiordiloto di cui avete trovato le goloserie dentro lo zaino i vudi che quest'anno ci supportano da lontano perché quest'anno il video è wind riser che digital update va bello conoscete la cuciria che ci permette di attaccarci i cartellini al collo carlotta cambiati che terrà il lo zoom club di fine settembre fabiana palu che ha fatto quello di della settimana scorsa arbos che ci fornisce meravigliosi quaderni del freelance camp monia d'arriva che domani mattina alle 9 farà il risveglio al sole emmanuele rabissi e sarah soldano che ci fotografano e roberto pasini che non devo dire che cosa fa perché tutto quello di bello che avete in mano l'ha progettato praticamente lui devo dare qualche avviso tecnico sì entro mezzogiorno se non avete ancora prenotato il cestino del picnic di stasera fatelo perché altrimenti dovete mangiare da qualche altra parte esatto lo fate direttamente con il bar bagno cercate il numero di telefono li trovate dalle 7 un quarto inizierà la distribuzione dei cestini quindi chi è già qua al bagno esatto andiamo ci mettiamo in fila adeguatamente distanziati per prendere il nostro cestino poi così quando arrivano quelli che hanno terminato il giro in valle baiona di stasera arrivano e ci raggiungono quando la nostra fila è finita non mi resta che dare inizio a questo freelance camp grazie di nuovo a tutti non abbiamo le sigle e gli stacchetti musicali ma fate conto che li abbiamo quindi potete applaudire lo stesso grazie